Siamo qui nel dopogara al Palacarucci con Alessandro Cacciotti, portiere del Real Terracina. E' andata male? Questo campo sembra proprio per voi stregato? Per il momento sì, perché è un'altra grande partita persa all'ultimo per una punizione. Ci faremo sabato prossimo con la Virtus Latina Scalo. Squadre importanti e importanti blasoni per questa categoria, nonostante che stiamo parlando di un campionato provinciale. Sì, Potecora ha una grande squadra di nomi affermati nel calcio a 5 come Cristofori e Piovesanna. Abbiamo dovuto testa a questi grandi nomi, a un certo punto mi sono guardato intorno. I miei compagni sono tutti 90 come me, l'unico vecchietto era Orlando, quindi abbiamo dovuto testa a dei grandi generatori. Che cosa è che non ha funzionato? Prima sotto di una rete, poi addirittura avete capovolto il risultato, vi siete portati in vantaggio. Poi invece qualcosa non ha funzionato nei meccanismi, addirittura avete subito. Fino a quando praticamente poi siete riusciti addirittura a riadrizzare la situazione? Purtroppo dovevamo ammazzarli subito nella ripresa, purtroppo non è stato fatto, anzi sei il capoporto come hai detto tu, tutta la situazione, purtroppo non siamo riusciti a coprire questo secondo palo. Purtroppo soffriamo su questo secondo palo, i miei compagni vengono attratti troppo dalla palla e questo secondo palo è sempre libero. Due o tre occasioni l'ho toccata ma non basta questo, bisogna pararla del tutto. Bene, grazie ad Alessandro Gacciotti, il portiere della formazione del Real Terracina. Intanto attendiamo l'arrivo del presidente del Real Potecora, Enrico Segala. Lui protagonista, quest'oggi ha voluto seguire proprio le sorti della sua squadra. Ecco lo attendiamo, sta arrivando proprio il presidente Enrico Segala. Buonasera presidente, importante vittoria qui in esterna e nel recupero della terza giornata. Adesso il Real Potecora vola a nove punti, non eravate mai riusciti, o meglio, non eravate riusciti nella prima volta che eravate in campo esterno ad ottenere tre punti. Sì, è stata sicuramente una bella partita. Siamo partiti un po' col piede sbagliato questa sera, però finalmente siamo riusciti a portare a casa questi tre punti da un campo esterno. Bella partita insomma, fino alla fine. Ecco, Presidente, quanto è importante avere una squadra così, un blasone come questo, in questi campi dove veramente poi si trova difficoltà anche ad esprimersi? Beh, l'esperienza secondo me di alcuni giocatori oggi ha fatto un po' la differenza, specialmente nel finale. Certo è che di fronte abbiamo avuto una squadra con giocatori davvero validi, quindi abbiamo trovato difficoltà fino alla fine, però fortunatamente siamo riusciti a spuntarla. Ecco, se ci fosse stato un pareggio, certo a voi vi avrebbe lasciato rammaricati, lo vediamo dall'espressione del volto, chiedevate sicuramente i tre punti? Beh, sicuramente sì. Visto la scorsa giornata con un pareggio, con una grande squadra, quali le giovani risorse, oggi ci aspettavamo comunque i tre punti. Comunque non sarebbe stato un problema, perché giochiamo partita per partita, affrontiamo insomma le squadre, ecco, sapevo che era una bella squadra al Terracina, però non pensavo di trovare, ho trovato anche giocatori, mi sembra c'era un ragazzo che giocava all'Alzezza l'anno scorso, molto bravo come più, quindi ho trovato di fronte degli avversari veramente validi, e secondo me faranno anche loro un buon campionato. Grazie al Presidente che ci ha anche rettificato la vostra posizione, perché non è di nove punti, ma bensì sono di sette punti, perché la settimana scorsa voi avete pareggiato. Quindi grazie al Presidente, la più cordiale buonasera proprio al Presidente Enrico Segala, che salutiamo, e dal Palacarucci Daniele Porcelli vi saluta. Grazie a tutti.